ciao belli da casa e benvenuti in un nuovissimo mio video ragazzi buon halloween a tutti godetevi questo giorno da halloween e godetevi questa storia perché oggi parleremo di varie determinate cose ovviamente oggi siamo su un video un po un po piuttosto particolare non sto parlando del 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 campeggio delle serie stories o il clip cinema o il teatro dei gialli di matte oppure anche la reaction a slenderman no non sto parlando di questo sto parlando di dieci storie che parleranno soprattutto da halloween perché oggi ovviamente siamo ad halloween e il tema non voglio cambiarlo perché oggi è halloween quindi ragazzi aprite bene le orecchie e ovviamente siete pronti a morire di paura la prima storia che vi voglio raccontare si tratta della spaventosa storia della bestia di Guevadan all'inizio dell'estate del 1764 gli abitanti della regione del Guevadan ai confini del dipartimento di Lozère cioè di Lozère in Francia non dormivano suoni tranquilli e dove una bestia feroce si aggirava nel paese ne erano sicuri perché da diversi pastori i bambini e alcune fanciulle della zona venivano trovati morti e sicuramente non si trattava di un brutto incubo il terrore era ben durato ben tre anni fino al sei giù fino al giugno del 1767 facendo quasi 130 vittime ma chi provocava tutto questo alcune voci beh alcune voci dicevano che si trattasse di un gruppo mannaro altri di un grosso cane addestrato per uccidere altri di una forza del male una punizione divina i più credenti al tempo comunque sapevate che al tempo c'era gente molto credente che fosse stata una punizione divina tutto poteva essere vero ma nulla era confermato alla fine venne a galla che gli attacchi fossero stati commessi soltanto da grossi lupi infatti dopo che due dei feroci animali furono uccisi nei tre anni di appostamento gli attacchi divennero rari non si riuscì a scoprire che cos'è chi era la bestia di Gerbana solo che solo che un grosso lupo si aggirava nei paraggi e uccideva bambini fanciulle o anche bestiame uccideva anche pastori e quindi nel terrore era ben durato tre anni quindi raga non era durato tre giorni no tre anni pensate il panico era anche un tempo molto molto indietro parliamo di tanti anni fa parliamo del 1700 quindi raga non la prendevamo come adesso perché è un tempo molto diverso ora parliamo di un qualcosa di molto più classico cioè classico nel senso che si vedono ormai dappertutto questi andiamo quando si parla di Halloween si parla soprattutto di clown ormai sappiamo che questa cosa è una claurofobia o anche detta clownmania che al tempo comunque era molto scontata cioè al tempo comunque diciamo che c'era una clownmania cioè tanti killer clown come venivano chiamati erano stati ripresi sulla scia del film che tutti noi sappiamo ovvero it dall'omonimo romanzo di Stephen King la fobia dei clown ha alimentato la leggenda metropolitana che noi tutti conosciamo del clown assassino gli stati uniti per esempio sono stati scossi da alcune voci che avrebbero assistito ad una serie di avvistamenti di demoniaci pagliacci che si racconta invitavano i bambini a seguirli nei boschi si tratta di storie che si sono diffuse velocemente su internet alimentando le leggende metropolitane insomma solo bufale ma anche in poche parole alcune possono essere vere ma soprattutto ragazzi rimanete attenti perché nei palazzi potrebbero essere anche beh ci potrebbero anche essere dei clown che vi potrebbero spaventare o inquietare comunque state ben attenti a dove passate ormai parliamo anche della leggenda della dama bianca anche chiamata Liorona esistono varie leggende sulla dama bianca di solito si tratta di uno spirito caratterizzato da sembianze femminili e da abiti di color bianco proprio come la Liorona tra le varie leggende ce n'è una che narra di una donna che non avrebbe ricevuto l'estrema unzione prima di morire quindi tornerebbe nel mondo dei vivi apparendo ai suoi discendenti che stanno per morire e preparati alla morte è una delle leggende metropolitane più longeve menzionata per la prima volta nel medioevo è oggetto di numerosi iscritti nel... 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 scusate... nel diciannovesimo secolo più di recente la dama bianca è associata della... alla figura dell'autostoppista fantasma presente in molte leggende metropolitane che ora parleremo proprio di quella l'autostoppista fantasma ma prima piccola curiosità sulla Liorona la Liorona sarebbe come voi sapete una dama una... una donna che ha affogato i figli ha affogato il figlio nel lago e da tutta disperazione continua a cercare dello spirito di suo figlio ma senza mai trovarlo piangendo lacrime di sangue ecco perché comunque esiste anche il film Liorona le lacrime del male che vi consiglio di andare a vedere io no perché letteralmente mi sono cagato addosso quindi passiamo alla prossima l'autostoppista fantasma l'autostoppista fantasma è una giovane donna vestita di bianco che appare e poi scompare improvvisamente dopo essere salita su una macchina con un grido agghiacciante di solito la si può incontrare lungo le strade di campagna deserte avvistata per la prima volta in Francia all'inizio del ventesimo secolo questa leggenda metropolitana avrebbe fonti ancora più antiche il nuovo testamento menziona così uno sconosciuto che sale su un veicolo e poi scompare con un grido agghiacciante ovviamente questa storia rimane una leggenda metropolitana perché non essendo stata scritta da nessuna parte non ha fonti autorevoli al riguardo beh, potrebbe essere soprattutto un fatto principale ci sono casi infatti 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 mi sono informato su questa cosa molti molti uomini un tassista per esempio non mi ricordo il nome però non lo dico per privacy un uomo ha avvistato ha dato un passaggio ad una donna e poi l'ha accompagnata tranquillamente nella direzione dove l'ha chiesto l'uomo l'uomo l'accompagna in questa via buia e la donna dopo essere scesa dal taxi il tassista si gira e poi scompare nel nulla senza essere scappata come se non fosse mai esistita ragazzi preparatevi la prossima noi la conosciamo però vogliamo ancora ascoltarla? beh ragazzi mi pare ovvio ebbene sì parliamo del rapitore di bambini lo Slenderman si tratta di un personaggio immaginario della cultura di internet creato ovviamente dal forum Santi Hefful da un utente nel 2009 questo lo conosciamo è considerato il più grande essere una creatura omanoide senza volto con un abito scuro e braccia tentacolari e rapirebbe i bambini la BBC lo descrive come il primo soprattutto il primo grande mito del web Death Slenderman è un personaggio noto nei videogiochi è anche ottenuto un adattamento cinematografico uscito nel 2018 negli Stati Uniti che se devo essere sincero quel film a me non è che mi sia piaciuto tanto però stiamo reagendo insieme a Marvel Hornets adesso dobbiamo continuare tra l'altro prossima settimana non perdetevi perché ci sarà un episodio e soprattutto non vi dimenticate che ci sarà un episodio dei gialli di matte con un latitante forse vi ho detto tutto ora parliamo d'altro ovviamente lo Slenderman se volete andare a vedere la serie di Marvel Hornets ovviamente potete andare nelle mie playlist e lì potete trovare la playlist dedicata alla reaction di Marvel Hornets quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo al prossimo i fantasmi di Alcatraz noi tutti conosciamo Alcatraz noi tutti conosciamo la prigione federale di massima sicurezza di Alcatraz o però ospitò i migliori criminali d'America dal 34 a 63 quando ufficialmente chiusa dieci anni dopo il sito è stato aperto ad un pubblico ed è diventato uno dei principali luoghi turistici della California tuttavia ci sarebbe sempre stata una strana atmosfera stare lì dentro non credo che stai a sicuro quindi ve lo dico subito affermano di aver visto degli spettri ovviamente sono solo fonti ricercate io vi sto solo dicendo quello che sto leggendo e soprattutto dicono che i fantasmi sono stati avvistati all'interno delle celle che potevano essere direttamente degli spiriti dei guerrieri morti soprattutto anche dei prigionieri morti di guerra quindi andiamo avanti la settima storia è è vero che ingoiamo ragni nel sonno? beh questa storia è un pochettino strana l'uomo ingoierebbe una media di sette ragni all'anno ne sonno durante la sua vita almeno questo è ciò che afferma un'errata leggenda metropolitana i ragni sono sensibili alle vibrazioni emesse dalla nostra bocca nonché al calore e all'umidità che li respingono l'apertura della vostra bocca però non è il terreno di predizione per le arachnidi che sono timorosi verso le creature molto più grandi di loro quindi raga dopo questa io penso che non dormirò mai più no sto scherzando io penso che questa storia comunque sia una leggenda quindi raga non prendetela assolutamente seria è una leggenda poi ovviamente chi lo sa può succedere allora passiamo al prossimo lo Stanley Hotel abitato da Spiridi fin dalla sua costruzione all'inizio del ventesimo secolo ad opera dell'inventore se magari riesco a vedere il nome l'inventore Freelance Stanley lo Stanley Hotel ha entusiasmato molti viaggiatori anche il maestro dell'horror il nostro Stephen King si ispirò a ciò che vide lì per scrivere il suo famoso libro The Shining secondo le molteplici testimonianze di portate gli elementi paranormali si manifestano in diversi modi apparizioni di persone decedute pianoforte che suona da solo bambini che si lamentano nel corridoio o anche rumori festosi nella sala da ballo quando non c'è eppure qualcuno in questi eventi spiegabili una dimensione positiva del fatto che ho visto anche vari video di ragazzi che sono andati in questo Stanley Hotel e sono andati per cercare una risposta se era effettivamente vero oppure no in tal caso hanno trovato le risposte cioè che lì dentro era davvero infestato ora andiamo avanti già dal titolo qua vi farà rabbrividire perché si tratta di ladri di bambini rum la voce sui rum anche come ladri di bambini risale al al ben diciottesimo secolo e serviva come scusa per giustificare una certa xenofobia nella lettura succede nel racconto di Esmeralda la protagonista femminile nel romanzo Notre Dame de Paris scritto da Victor Hugo che a pochi mesi di vita viene rapita da alcuni zingari nella culla e cresciuta dal loro re ai giorni nostri invece le voci girano sui social network e si parla di rum che vengono con furgoni bianchi rapirebbero bambini nei supermercati e nei parcheggi quindi questa storia è praticamente mentre una storia che si può dire vera perché ormai gira questa leggenda dei furgoni bianchi che voi sapete bene però raga non fidatevi mai degli sconosciuti mai ora andiamo all'ultima storia d'Halloween cioè i fantasmi del castello di Glemis siamo nella Scozia terra di castelli ma anche di fantasmi quello che molti considerano il più infestato si chiama Glemis Castle e si trova nella Sublime Streetmore Valley costruito nel quindicesimo secolo no quattordicesimo secolo scusate secondo alcune voci ospiterebbe tra i sette ai nove fantasmi il più noto di tutti è quello The Grey Lady cioè la donna la donna grigia o Jeannette Douglas una donna innocente brutta viva nel 1537 per stregoneria voi sapevate che nel cinquecento nel periodo del medioevo chi veniva preso per stregoneria o per strega veniva o impiccato o bruciato quindi sapete bene che letteralmente chi veniva accusato di stregoneria veniva brutto o torturato questo castello è particolarmente famoso perché l'edificio in cui ispirò William Shakespeare a scrivere la sua commedia Macbeth una storia tragica in cui mescolano omicidi e professie sulle streghe ma è anche la casa delle vacanze della famiglia reale dove la regina Elisabetta ha trascorso tutte le sue estati durante la sua infanzia fu anche durante uno di questi soggiorni che sua sorella ovvero Rose avrebbe visto The Grey Lady suonare l'organo della cappella quindi raga già che questa conferma che la famiglia reale abbia visto la abbia visto effettivamente la donna grigia a me fa venire la pelle d'oca quindi ragazzi per questo video direi che si conclude qui cosa ne pensate di queste storie a me mi hanno fatto rapi di dire non so voi quindi questo video si conclude qui spero che questo video vi sia piaciuto mi raccontate se è un bel mi piace se è piaciuto lasciate un pollice in su ve l'ho detto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e soprattutto ditemi voi soprattutto cosa ne pensate bene ragazzi io vi do una buona serata e un buon Halloween ciao